Al ridotto del Politeamo all'incontro con PFF Ferdinando Casini che dice la DC è morta ma non i democristiani. Controlli a tappeto sulle bici elettriche modificate, numerosi sequestri, una arrivava fino a 90 chilometri orari. Lo scienziato pratese Luca Bindi scopre un nuovo materiale mai trovato sulla terra e mai descritto nello spazio. Escursioni di trekking per disabili grazie a speciali carrozzelle, l'iniziativa è dell'associazione Vagamonti. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato in primo piano La Politica con l'incontro di cui ieri sera è stato protagonista Pier Ferdinando Casini. La democrazia cristiana è morta ma non i democristiani, ha detto Casini intervenendo alla presentazione del suo ultimo libro C'era una volta la politica parla l'ultimo democristiano organizzata al ridotto del Politeamo dall'associazione culturale Punto di incontro. Era presente anche Ugo Sposetti, l'intervista è stata realizzata dal nostro direttore Gianni Rossi. Ascoltiamo. C'era una volta la politica il titolo del suo libro, oggi al posto della politica cosa c'è? Ma questo è un titolo evocativo, da un lato una denuncia, cioè oggi non c'è più la politica vera, dall'altro un'invocazione, sperare che la politica vera torni, perché io sono sempre pieno di speranza. Chi ha la passione politica non può rassegnarsi, per cui io mi auguro che i giovani ad esempio per partecipare alla vita della propria città capiscano che non c'è un'alternativa alla politica, che bisogna sporcarsi le mani con la politica. E cito nel libro quella frase che io ripeto spesso, ma francamente non ho trovato una frase più bella, di Don Milani ai giovani che gli dicevano la politica è una cosa sporca e lui rispondeva in modo fantastico, il più grande spot per la politica. Ma ragazzi a che vi serve avere le mani pulite se le tenete in tasca? Per cui io mi auguro che tanti giovani sentano il richiamo della passione politica. Diciamo che è morta la democrazia cristiana, ma ne sono ancora vivi i democristiani, grazie a Dio, non sono l'ultimo ma ce ne sono tanti, sicuramente Sposetti è l'ultimo comunista. Quanto incide a suo dire il fenomeno dell'astenzionismo così grave nelle ultime tornate in quell'area centrale della politica a cui si riferiva sempre la democrazia cristiana? Ma, allora, il centro democratico cristiano non può esistere più perché non ci sono più le condizioni politiche che c'erano col muro di Berlino, con la contrapposizione ideologica, con l'unità politica dei cattolici. Però è necessario lavorare per creare quell'elemento anche di moderazione in politica che io non so se sarà un polo a sé, ma certamente è necessario ovunque. Adesso la cronaca controlli dei carabinieri sulle strade pratesi. Sono state sequestrate biciclette elettriche potenziate che dovrebbero viaggiare ad una velocità massima di 25 km orari e che in realtà raggiungevano velocità ben superiori. In un caso è stata addirittura accertata la velocità di 99 km orari. Individuata e sanzionata anche un'officina, in realtà poco più di un box auto, che provvedeva ad effettuare le modifiche dei mezzi, sostituendo le batterie e togliendo i fermi che ne determinano la velocità. Le persone coinvolte, anche i responsabili dell'officina, sono tutte di nazionalità cinese e pakistana e ad ognuna è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro e il sequestro del mezzo. Nel mirino dell'arma non solo questo tipo di biciclette, ma anche i mezzi e bike utilizzate da sportivi, quali ciclisti e amatori, che non di rado effettuano modifiche ai limitatori di velocità, rischiando anch'essi la stessa sanzione e il sequestro del mezzo. Lo scienziato pratese Luca Bindi, noto per i suoi studi sui quasi cristalli, ha messo a segno una nuova importante scoperta. Vediamo di che cosa si tratta. Un nuovo materiale a base di fosforo mai trovato sulla Terra e mai descritto nello spazio. A scoprirlo è stato il ricercatore pratese Luca Bindi, docente dell'Università di Firenze, non nuovo a imprese scientifiche di livello internazionale. Alla scoperta realizzata insieme ai colleghi della University of South Florida, si è arrivati analizzando il frammento di una fulgurite originata dall'esplosione causata da un fulmine abbattutosi su un albero in Florida. Il nuovo minerale, individuato nel campione di fulgurite grazie alle analisi compiute nei laboratori fiorentini, potrebbe fornire nuove e importanti informazioni sullo sviluppo della vita sul nostro pianeta. Sul nostro pianeta il fosforo principalmente si ritrova come fosfato, quindi come materiale, tanto per capirsi, il costituente principale delle nostre ossa, dei nostri denti, eccetera. Mentre nelle meteorite il fosforo si ritrova allo stato ridotto, da formare dei fosfuri. Bene, noi in questa nuova fulgurite troviamo il materiale a formare un fosfito, quindi un qualcosa di nuovo mai descritto. E questo è importante ovviamente non solo perché continua ad aprire scenari sempre più importanti su come studiare questi materiali formati in eventi di altissima energia, come le scariche di fulmini, possa rappresentare un modo per individuare nuovi materiali, ma dall'altro, visto e sappiamo che quanto il fosforo abbia giocato un ruolo fondamentale per l'origine della vita sul nostro pianeta, ecco, trovare un nuovo composto che contiene fosforo, a formare un qualcosa che non era mai stato descritto prima, credo che apra scenari estremamente affascinanti, anche per ridiscutere quel processo iniziale, primordiale, che forse può essere stato molto più complesso di quanto abbiamo creduto fino ad adesso. E dalla scienza alla cultura, per una buona notizia che riguarda il teatro Metastasio, è riconosciuto al quarto posto in Italia tra i treatri di rilevante interesse culturale, è quanto emerso dalla valutazione del Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024, che ha inserito il teatro cittadino nel primo sotto insieme con il teatro Franco Parenti e il teatro dell'Elfo di Milano e con il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste. Un risultato storico, mai raggiunto dal Met, che per il 2022 può contare su un aumento del 10% del finanziamento ministeriale. Questi risultati rafforzano la posizione di prestigio del teatro Metastasio nel panorama nazionale italiano, confermandolo come una realtà tra le più dinamiche per qualità e ampiezza della sua proposta culturale, lo affermano il presidente del Metastasio, Massimo Bressan, e il direttore Massimiliano Civica. Un tesoro nascosto di suoni, sabato, concerto d'organo in cattedrale, l'iniziativa è organizzata dal Rotari Prato per la città. Scopriamone di più. Un concerto alla scoperta dell'organo antico della Cattedrale di Santo Stefano, custodito nella cappella del Sacro Cingolo. L'appuntamento con un tesoro nascosto di suoni è per sabato 22 aprile alle 16. A suonare l'organo, costruito nel 1588, ampliato nel 1773 e restaurato nel 2000, sarà il maestro Gabriele Giacomelli, organista di fama internazionale. È prevista inoltre la partecipazione del coreofonius, diretto da Elia Orlando e del percussionista Giammiro Ferrati. È uno strumento di grandissimo valore, molto piccolo, molto particolare, ma che il suono si espande moltissimo in tutta la cattedrale. La tastiera è nascosta dietro nella sagristia, mentre le canne appunto sono sulla parete della cappella. Proporrò, oltre a brani ovviamente del nostro Domenico Zipoli, anche brani di Johann Sebastian Bach, di Domenico Scarlatti, di Giovanni Battista Pergolesi e mi spingerò anche addirittura all'inizio del Novecento con Max Reger e Eduard Elgar. L'iniziativa, ingresso libero, è organizzata da Rotary Club Prato in collaborazione con il capitolo della cattedrale e col patrocinio del Comune di Prato. L'idea nasce perché la nostra associazione in questa annata ha come progetto quello di incontrare la città e le istituzioni e su questo chiaramente è il culmine di quello che sono stati tanti incontri per avvicinare la città. L'organo della cattedrale all'interno della cappella del Sacro Cingolo non suona molto spesso, anzi direi la prima occasione dopo la pandemia con il maestro Gabriele Giacomelli grazie all'iniziativa del Rotary Prato gratuita, aperta a tutti con un repertorio che stupirà le persone che verranno in cattedrale sabato. Venerdì 21 aprile Vespri e Messa saranno trasmessi da TV Prato dalla Basilica di Santa Caterina dei Ricci. Alle 17 recita dei Vespri e alle 17.30 celebrazione della Messa presiede il Vescovo Giovanni Nerbini. L'occasione è l'inizio del triduo di chiusura dei 500 anni dalla nascita di Santa Caterina sabato poi torneremo in Duomo con gli orari della Messa prefestiva 17.30 il Rosario e 18 la Messa. Trekking accessibile l'Associazione Vagamonti organizza le camminate in Giollet le fuoristrada delle carrezelle. L'ultima escursione si è svolta ad Artimina Artimino con una trentina di partecipanti c'eravamo anche noi. C'è Marco grande appassionato di trekking snowboard e tennis che un anno fa è rimasto paralizzato dalla vita in giù dopo un brutto incidente in moto e c'è anche Fabiano di Plegico dalla nascita che ha scoperto da poco la passione per le passeggiate nella natura. Sia Marco che Fabiano hanno partecipato alle camminate sociali organizzate dall'Associazione Vagamonti alla scoperta delle bellezze della provincia di Prato grazie all'utilizzo della Giollet il fuoristrada delle carrezelle. La mia storia allora sono nato con una paralisi celebrale infantile ho una biplegia infatti ho problemi a deambulare come si può vedere dal deambulatore e mi piace come hobby fare questo trekking queste camminate vivere questi rapporti con gli altri e con la natura grazie alla Giollet con la carrozzina attrezzata posso fare questo tipo di esperienze altrimenti non avrei potuto fare. Lo spirito che anima queste camminate è se non lo puoi fare da solo possiamo farlo insieme. Le Giollet consentono a chi non ha l'uso delle gambe di affrontare anche i sentieri più impervi hanno una struttura allungata e ruote più grandi cinghie con cui assicurare il passeggero e maniglie da ogni lato funzionano a loro meglio se sorrette da almeno 4 persone in Italia sono molto diffuse soprattutto nelle regioni del centro nord ma a Prato le ha portate vagamonti l'associazione nata dal viaggio a piedi lungo l'Italia compiuto nel 2022 dal pratese Gianluca Mantovani per sensibilizzare sulle malattie croniche e che oggi ha esteso la sua rete ad associazioni che si occupano di disabilità guide turistiche e istituzioni i comuni di Prato e Cantagallo hanno donato rispettivamente due Giollet per le camminate inclusive di vagamonti è maturato strada facendo proprio nel vero senso della parola perché durante il cammino è maturata l'idea di dare un seguito a questo cammino che è sfociato appunto nella costituzione dell'associazione vagamonti la nostra associazione vuole portare nei sentieri chi non può farlo da solo chi ha delle fragilità motorie per questo motivo abbiamo cercato degli itinerari che sono adatti a tutti sono semplici e possono essere anche seguiti da tanti camminare, guardarsi intorno includere persone con difficoltà motorie per noi è molto importante è arrivato il momento delle previsioni meteorologiche come sempre a cura del Consorzio Lamma un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma queste le immagini del satellite relative a questa mattina che vedono l'avvicinarsi di aria relativamente più fresca e instabile dall'Europa settentrionale verso la penisola italiana determinerà una instabilità anche sulla nostra regione per quanto riguarda il resto della giornata di oggi mercoledì nel corso del pomeriggio sono previste l'aumento delle nubi su tutte le zone dell'interno con possibilità di rovesci brevi temporali più probabili in Appennino ma non si può escludere qualche breve rovescio appunto anche in tutte le restanti zone dell'interno prevalenza invece di bel tempo lungo la costa temperature nei valori massimi quest'oggi stazionari in leggero aumento valori attorno ai 20 gradi un'occhiata alla giornata di domani giovedì una giornata un po' più chiusa già al mattino la presenza di nubi di nuovo più probabili nelle zone dell'interno in tarda mattinata probabilmente qualche debole pioggia in Appennino nel corso del pomeriggio ecco le brevi rovesci o temporali che potranno verificarsi in tutte le zone dell'interno mentre rimane una prevalenza di bel tempo lungo la costa per domani è previsto l'abbassamento delle temperature con questo è tutto grazie dell'attenzione il telegiornale del giorno si conclude qui restate con noi vi ricordo alle ore 17 in diretta dal Duomo di Prato la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa Feriale l'informazione di TV Prato poi torna stasera alle 20.30 con il TG Serale grazie dell'attenzione e buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti